Siamo al centro dell'isola, piazza della Repubblica, questa mattina si è sparsa una voce, si è sparsa una voce che subito si è tramutata in numeri e ci troviamo qui nella ricevitoria dei appendata per saperne di più. Andiamo! Allora, caro Antonio, questa mattina si è sparsa voce sul territorio che ci sono quattro numeri che vanno per la maniera, ed ho fatto 44, 36, 38 e 52. Ovviamente tu sei un eccezio, che cosa significano questi nomi? Allora, 44 è l'assessore, 36 il sindaco, 38 le mazzate e 52 dottore. Quindi, tutto sommato, sembrerebbe che il fatto sia riconducibile a qualcosa della politica, però noi al momento ci limitiamo i numeri e questi, i numeri parlano chiaro, numero parla? O no? 38 le mazzate, quindi sono state le mazzate, e poi la presenza di un dottore. E cioè, che questo è enigmatico questo? No, sappiamo che è il dottore. Quindi, diciamo che può essere stato, o un sogno, come spesso accade, che la gente, e poi si gioca quello di... No, un sogno no, perché mi hanno detto che è un fatto accaduto. E qui ci sono successi di queste cose, e volevano sapere. La stessa cosa, che è un sindaco, mazzate. Quindi, leggendo la smorfia, abbiamo avuto quel fine. Ora, chi li vuole giocare? Noi stiamo, ovviamente non chiederemo la percentuale, perché ci sembra, però sappiate che i numeri, così come dice il buon Andorra che li ha studiati, perché ha studiato estressamente quello che ti veniva chiesto dalle persone, insomma, i numeri sono sempre quelli, i numeri che cambiano. Quindi il sindaco 32, assessore 44, mazzatele del vostro, e il cittadino. Allora, se dobbiamo consigliare una quaterna secca, o una bella quaterna, anche un euro, insomma, 120.000 euro, per i tempi che corrono. Per la ruota di Napoli. Perfetto. Giochiamo anche noi. Speriamo che spieghiamo così. Speriamo. E a proposito, dite di nuovo, lascia piccola rosetta. Grazie a tutti.